Buongiorno, oggi è sabato mattina, sabato 17 agosto per esattezza, sono in circa le 8 e un quarto, le 8 e 20 e io sono Giancarlo Fornei, sono formatore motivazionale, un allenatore mentale ed anche uno scrittore, così dicono quantomeno ci provo, provo a scrivere qualcosa di interessante per gli esseri umani. Questo è per esempio il mio ultimo libro, Come vivere la grande, un libro che è stato pubblicato in self-publishing sulla piattaforma youcanprint.it alla fine di luglio, quindi è, come dirti, fresco fresco di stampa, ma sono qua per invitarti ad un avvenimento molto molto importante, la prima conferenza di presentazione proprio del libro che terrò giovedì 29 agosto alle ore 21.30 in un bagno bellissimo, lo stabilimento balneare Bagno Giuliana della mia carissima amica Brunella Parvini, al Cinquale di Montignoso, alle porte della Versiglia proprio, quindi in Toscana. Il bagno è molto bello, tra l'altro molto spazioso, vieni e portati dietro tutte le persone e le amiche che vuoi, l'ingresso è gratuito, laddove è possibile la presentazione è comunque gradita, perché almeno ci rendiamo conto di quante sono le persone, di quante serie dobbiamo preparare. Pertanto ti do un recapito telefonico, scusami ma io, insomma avendo già una certa età, non è che mi ricordo tutti i numeri in memoria, puoi chiamare lo 0585309607 e chiedere naturalmente della signora Brunella Pardini, chiedi a lei e lei ti riserverà un tavolo, comunque in ogni caso ti metterà in vista di prenotazione. Ma perché partecipare alla conferenza del 29 agosto del 2013 con Giancarlo Fornai in Versiglia, a parte il fatto che ci divertiremo un mondo e io risponderò a tutte le domande, anche di carattere di crescita personale, quantomeno quelle che so, quelle che non so, chiederò il quinto emendamento. Ma poi perché ti presenterò il mio ultimo libro e parleremo proprio di questo, di come vivere la grande, o meglio parleremo di quelli che sono i nove consigli che sono inseriti all'interno del libro, quindi gli andrò a snocciolare uno per uno cercando naturalmente di darti una sorta di pillola dei consigli e sui quali, sugli stessi consigli, naturalmente andremo a fare anche una sorta di dibattito. Io risponderò a tutte le tue domande, alle domande di tutte le persone che stanno presenti. Quindi non mi resta altro che ricordarti, alla conclusione di questo breve video, giovedì 29 agosto 2013, Bagno Giuliana, alle porte della Versiglia, esattamente a Cinquale di Montignoso. Se vieni da Marina di Massa, se vieni da Massa, da Carrara, subito dopo il ponte c'è lo stabilimento balneare Giuliana. Se invece vieni dalla Versiglia, vieni da Forte del Marmi, subito dopo il ristorante Cappannina c'è lo stabilimento Bagno Giuliana. Quindi 0585, il recapito telefonico, 309607, tu chiedi di Brunella e naturalmente sarai messo in lista. Ti aspetto, mi raccomando, numerosi, 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 porta con te in tante amiche e tanti amici perché lo stabilimento, come ti dicevo, è veramente molto bello, ma è anche grande, è anche spazioso, quindi ci stiamo tutti insieme. E poi, se non ci stiamo, io starò in piedi e vi farò posto. Un grande, grandissimo abbraccio e ti aspetto, vi aspetto giovedì 29 agosto 2013, naturalmente, in Versiglia, al Bagno Giuliana, dalla mia cara amica Brunella Partini, che saluto e ringrazio veramente di cuore per la sua ospitalità e che sono convinto che sarà squisita. E poi conosco Brunella, ha sempre il sorriso sulle labbra, è una donna di quelle, come dire, gioiose, temprate, di quelle che piacciono a me. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a Brunella, un abbraccio anche a te che hai visto il video e naturalmente a te che vorrei venire alla conferenza. Grazie.